ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video io sono daniele e faccio l'apicoltore benvenuti soprattutto sul canale di apicoltura cd il canale dedicato agli apicoltori e all'apicoltura ma anche a chi vuole conoscere di più questi magnifici insetti e ne ha incuriosito ragazzi prima di continuare vi chiedo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto di lasciare un bel like al video e di condividere il video con i vostri amici allora oggi parliamo di un altro membro dell'alveare di un altro membro del super organismo un membro che spesso è sottovalutato dalla stragrande maggioranza delle persone ma anche sottovalutato anche da qualche apicoltore un po superficiale oggi parliamo dei maschi parliamo dei fuchi che per tanto tempo sono stati sinonimi di parassiti dell'alveare la cui unica funzione si pensava era quella di fecondare le nuove regine con i nuovi studi invece si è venuto a scoprire che il fuco ha molte più funzioni indispensabili all'interno dell'alveare e la sua presenza è sintomo di benessere del super organismo e anche di prosperità allora come nasce un fuco sappiamo che un fuco nasce da un uovo non fecondato quindi o la regina depositerà l'uovo nella celletta più larga in modo che l'addome non sia toccato dalle pareti della cella e quindi che la sacca spermatica non venga spremuta diciamo così dall'ingresso della cella deponendo un uovo non fecondato e quindi nascerà un fuco ci sono altre altre occasioni in cui possono nascere i fuchi possono nascere i fuchi ad esempio da una regina fecondata male da una regina a fine carriera quindi che ha esaurito la spermateca oppure anche da qualche operaia che in assenza di regina in un nido per diverso tempo mancando il fenormone che inibisce lo sviluppo dell'organo sessuale delle altre api femmine all'interno del nido qualche api operaia potrebbe sviluppare in qualche maniera il suo organo riproduttivo e iniziare a deporre le uova come ultima spiaggia per il salvataggio del super organismo però un apicoltore esperto sa che quando succede questo bisogna correre subito ai ripari svolgendo le operazioni indispensabili per salvare le api rimaste quindi quando un'arnia si dice è fucaiola è quando o una regina fecondata male o a fine carriera oppure un'ape operaia che ha cominciato a deporre perché è mancata la regina per troppo tempo allora come sono fatti i fuchi a differenza delle api i fuchi sono un po più tozzi sono un po più larghi diciamo che sono quasi rettangolari la cosa che salta più all'occhio sono le ali più grandi e soprattutto gli occhi molto 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 più sviluppati questi grandi occhi hanno lo scopo di individuare le giovani regine che sono che sono in volo nuziale una particolarità del fuco è che non ha il pungiglione infatti è impossibile essere punti dai fuchi perché al posto del pungiglione loro hanno sviluppato il suo organo riproduttivo i fuchi hanno le ali molto più sviluppate rispetto alle altre api operaie perché riescono a raggiungere delle distanze molto maggiori rispetto alla posizione dell'alveare infatti ci sono dei punti particolari che sono sempre gli stessi anno per anno dove i fuchi si raccolgono in attesa del passaggio delle nuove regine da fecondare questi punti sono chiamati punti di raccolta e possono distanziare dall'alveare anche 16 o 17 chilometri quindi un sacco un sacco di strada a differenza delle api operaie che di solito arrivano nel raggio di 3 chilometri mediamente ecco questi sei questi punti di raduno sono sempre gli stessi anno per anno abbiamo detto e sono marcati con dei particolari odori e anche la strada da percorrere dalle regine quando fanno il volo nuziale si pensa che anche le regine percorrano la stessa strada e gli stessi segnali olfattivi ecco questa è una cosa molto interessante che è stata scoperta da pochissimo tempo e ci fa capire la complessità del mondo di questi di questi piccoli insetti quindi a cosa servono i fuchi a parte la fecondazione della regina si è scoperto che il fuco svolge funzioni molto importanti all'interno dell'alveare è una funzione in particolare anche per gli epicoltori soprattutto per i giovani epicoltori il fuco è molto utile per riscaldare la covata percolata infatti in primavera si può incappare in giornate ancora fresche soprattutto di notte il fuco è veramente una una grossa fonte di riscaldamento infatti avendo il corpo molto più grande e molto più tozzo rispetto alle operaie svolgerà una funzione di riscaldamento ampiamente maggiore e un'altra operazione importantissima dei fuchi è quella che partecipano attivamente alla trofallassi allo scambio di nettare o i fenormoni di conseguenza all'interno dell'alveare noi sappiamo che le api bottinatrici portano dentro all'alveare del nettare e della propoli e del polline questo viene scambiato di bocca in bocca per concentrarlo sempre di più quando l'umidità ha raggiunto il punto desiderato le api lo vanno a stoccare dentro alle cellette e dopo di che si trasformerà in miele grazie agli enzimi che sono presenti nella saliva delle api il fuco partecipa attivamente a questa funzione un'altra funzione importante che viene svolta dai fuchi è quella della ventilazione anche qui i fuchi avendo le ali più grandi possono aiutare maggiormente il circolo dell'aria ed estate svolgono un'importantissima funzione di termoregolazione dell'alveare la vita dei fuchi però diciamo così che non è una vita molto felice infatti diciamo così lo scopo principale del fuco è quello di fecondare le regine e una volta terminato l'atto di riproduzione questi sappiamo che vanno a morire perché l'organo riproduttivo rimane attaccato alla regina e loro perdendo l'organo riproduttivo vanno a morire praticamente sviscerati questo è diciamo così la fine più comune dei fuchi in un alveare ben popolato possono nascere dai 2 ai 6.000 fuchi all'anno e questi fuchi vengono cambiati regolarmente infatti la vita del fuco può durare anche 50 giorni per un giovane apicoltore il fuco è molto importante soprattutto per fare pratica perché prima di maneggiare le regine di solito si fa pratica maneggiando dei fuchi infatti io dico a tutti a tutti quelli che me lo chiedono come fai a prendere le regine come fai a maneggiare le regine io gli dico se avete paura di sbagliare toccando una regina cominciate prendendo in mano qualche fuco perché più o meno la consistenza è la stessa e più o meno anche la dimensione e il modo di operare sembra lo stesso quindi cominciate a maneggiare qualche fuco state tranquilli perché tanto il fuco non punge e provate magari anche a assegnarli con con il pennarello così potete far pratica quando vi sentite poi sicuri potete provare con le prime regine con la fine della stagione quindi già a agosto barra settembre iniziano ad essere cacciati dal nido infatti le apioperaie lasciano all'esterno i fuchi a volte li uccidono addirittura prima che possano entrare nel nido perché vengono visti a questo punto come un peso perché non serviranno alla ripresa della stagione l'anno successivo ma serviranno soprattutto tante apioperaie i fuchi anno per anno verranno poi riprodotti dalla nuova regina o dalla regina che c'è rimasta nell'alveare quindi i fuchi a fine stagione vengono praticamente lasciati fuori dall'alveare e vengono lasciati morire di fame questa è la fine che viene lasciata a loro dal super organismo il fuco comunque è una importante fonte di genetica per chi fa l'allevamento di regine per chi riproduce regine e perché sappiamo benissimo che la regina nasce dal nuovo fecondato quindi abbiamo metà genoma femminile e metà genoma maschile che essendo lo sperma accumulato nella spermateca proveniente da diverse decine di fuchi quindi qui abbiamo possibilità di trovare poi api femmine o peperai oppure nuove regine che provengano da diversi maschi quindi il fuco è la fonte diciamo del 50 per cento del patrimonio genetico delle regine che noi stiamo riproducendo di chi deve allevare regine di solito lo fa in areali molto isolati quindi magari in montagne e in alta quota oppure in areali saturi si chiamano perché loro sapendo il raggio d'azione del volo nuziale della regina mettono varie postazioni attorno alla piada principale dove c'è la regina madre lasciano allevare grandi quantità di fuchi da questi alveari che sono messi attorno in posizioni strategiche per cercare di saturare al massimo un tipo di linea genetica anche dalla parte maschile questo è un lavoro assolutamente molto molto complicato chi lo fa veramente deve avere grande esperienza sia nel selezionare le regine madri e sia nel selezionare anche i fuchi che con tutta probabilità andranno a fecondare nuove regine nate tanto di cappello a questi apicoltori ecco ragazzi come al solito per questo video è tutto questo è pillole di apicoltura cd una rubrica che ho voluto fare per avvicinare la maggior parte delle persone al mondo dell'apicoltura per spiegare un po' con parole semplici senza tralasciare i dettagli a chi è affascinato da questo mondo e incuriosito e come al solito io vi chiedo sempre di mettere like se il video vi è piaciuto ed iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto iscriviti al canale iscriviti al canale iscriviti al canale grazie a tutti